Salve a tutte e benvenuti in questo nuovo video di Cursed Allora, sto registrando questo video di seguito rispetto a un po' con l'altro Abbiamo trovato Albert Continuiamo Allora Abbiamo trovato questo fiore che ora sinceramente non mi ricordo dove va Quindi ci faccio... Ah, qui, 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 qui Giusto E abbiamo trovato la tastatuita Che va qui sotto Ehm... Oddio E mo? Forse... Lightning... Allora, andiamo un po', aspetta Ah, ok, ok, ho capito, ho capito Allora Quindi Task Light Poi c'è questo e questo Quindi Così Poi c'è Picche Ah, intanto Io un po' Picche e fiori Quindi Scambiamo questo Scambiamo questo Poi Lo Ying e Yang Sì Ok, abbiamo risolto questo puzzle Cosa Sta succedendo Ah, ok, abbiamo tolto No, aspetta Sì Abbiamo tolto il Il tornado Ecco Quindi ci andiamo subito Quindi andiamo Ok Però ora Ah, col coltellino Oh Ok, qui mi serve una maschera Due maschere E mi serve Un uccellino Questa gemma dove Mi serve Ah, ok Qui Cosa ho fatto Una scatola Abbiamo trovato Un Un ingranaggio Ah, l'uccellino Che ci serviva Lo applichiamo subito Cosa Oh, no Allora Qui Lo velocizzo Perché trovare Ok Come no Ah, aspetta Forse ho capito Allora Allora Aspetta Andiamo a trovare Il cerchio Eccolo qua Magari Mi prendo Un Foglio Ma non ce l'ho Portata di mano No Mi sono caduti Un sacco di libri Vabbè Prendiamo questo Allora Ci segniamo Ogni posizione Quindi sono Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Per Uno Due Tre Quattro Cinque Per Cinque Quindi Uno Due Tre Quattro Per Cinque Quindi vado a Sentire tutto Allora Cerchio E cerchio Qui Ci abbiamo Un Due Sopra Un triangolo Accanto Un tre Così Un Cerchio Con un puntino Oh L'ho Giacciato Ok Poi sotto Un quadrato Quindi Via un po' Cerchio 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 Un puntino Ok No Cerchio 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 Sotto Abbiamo Un'onda Sotto Ancora I tre Triangolini Accanto Una X Accanto Il quadrato Il quadrato Sbarrato Accanto Un'altra Onda Poi accanto Un triangolo Stella Si qui Si qui sarà Velocizzato Velocizzato Molto Al massimo X Stella Cerchio 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 col pallino Onda Onda X Cerchio 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 Quadrato Triangolo Triangolo Uguale Uguale Sbarrato Uguale Uguale Quadrato Sbarrato 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 Triangolo Ok Allora io ora Penso Che noi Dobbiamo Dare Prima tutti i cerchi Ok Poi i cerchi Col pallino Esatto E infatti Sbarrato Ok I cerchi Non sono più Selezionabili Poi Tutti i cerchi Col pallino Ed Esatto Poi credo Che bisogna Dare Questo Che è uno Quindi L'altro Sta qui Ok Poi bisogna Dare Gli uguali Che sono i due Quindi sta uno qua Uno qua Uno qua E ok Poi Quelli orizzontali Che sono i tre Quindi qua 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 E qua Poi I triangoli Ora sto provando A caso Che sta un altro qua Esatto Sto azze Sto azzeccando Sto azzeccando Poi Direi Con le x Qua 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 E poi Le stelle Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ma chi è? Voldemort Credo che sia Voldemort Velhari Velhari Non sono 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 Velhari Mi hai errori Non mi hai erro Per qualcuno Perché mi chiami Mi chiamato Per questo Il nome Chi sei? Velhari Devi sicuramente Mi e i miei Ambiti Ma chi sei? Chi ti conosce? Che cazzo ti conosce? ma qui te canoche dai su ma che caccio sono le freghe di te vabbè cosa eh infatti i testi sono alla cazzo come sempre oh cosa ma che velari ma perchè i testi sono fatti così cosa che cosa è successo non ho capito abbiamo trovato uno specchio va bene va bene va bene va bene va bene ci fermiamo qua con questo episodio non so quanto è venuto lungo però non so più cioè diciamo voglio tenere un po' sulle spine ecco che cacchio era quello non lo so allora ci fermiamo con questo episodio ehm in descrizione trovate tutti i link per seguirmi quindi instagram facebook e telegram trovate anche i link per il mio negozio online dei magliette ehm tazzo non lo so no magliette cover ehm borse cose così poi trovate anche il link per tipe per aiutarmi a ehm guadagnare un po' di soldi ma per ehm portarvi nuovi contenuti quindi basta donare anche un solo euro per poter arrivare a una somma per avere un nuovo videogioco da portarvi a voi detto questo attivate la campanella così almeno non vi perdete nessuna notifica dei miei video e noi ci vediamo al prossimo video lascia un mi piace o un commento e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti